Io sono Sandra Masi e sono la titolare dell'azienda Chiuma Radici di L'Orocio di Menna. La nostra azienda produce frutta e verdura fresca e trasformata, quindi abbiamo dei campi dove continuiamo la frutta e la verdura e un laboratorio interno all'azienda dove facciamo la trasformazione dei nostri prodotti. Siamo una piccola azienda che fa le cose in modo artigianale, che è un'azienda biologica da oltre 30 anni, quello che facciamo lo facciamo nel rispetto dell'ambiente delle persone che mangiano i nostri prodotti e i prodotti trasformati che facciamo non contengono nessun tipo di addensante, di conservante o di additivi chimici e quindi sono come fatti in casa. In conseguenza i sapori non sono quelli che solitamente si trovano nei prodotti in barattoli, ma sono come prodotti appena fatti, freschi. Utilizziamo solo olio extravergine d'oliva, utilizziamo solo zucchero di canna e nessuna addensante. Si lavora solamente nel momento della stagione del prodotto dove il grado di maturazione è quello giusto. Non lavoriamo da semi lavorati e questo dà molta freschezza al prodotto. La cosa che ci ha stupito di più è stata nell'esaminare i costi aziendali per riuscire a individuare meglio dei costi nascosti. Riuscendo a capire meglio questi costi è stato più facile riuscire a capire qual è il margine da aggiungere al costo delle materie prime per poter arrivare a un prezzo più corretto. RENOVA ME Business Solution Cash Evolution RENOVA ME Business Solution RENOVA ME RENOVA ME RENOVA PEER RENOVA PEER RENOVA PEER